Che sarebbe stata una domenica impegnativa lo si sapeva e per questo la vittoria è stata ancora più preziosa. Colpo esterno per l'Amen, scuola basketarezzo in casa del Fucecchio, formazione retrocessa dalla Serie C Gold, partita in sordina ma che con il passare del campionato ha ritrovato un suo equilibrio e buone prestazioni. In casa Maranto, coach Delia doveva forzatamente rinunciare a capitano Castelli squalificato, in questo modo non ci sono stati problemi di turnover tra i senior dove è stato riempiegato Balsemini. Questa trasferta contro un avversario di alto livello è servita all'Amen per trovare quell'intensità che nelle ultime due uscite non è riuscita a mettere in campo per tutti i 40 minuti di gioco. Il finale di 81-77 in favore dell'Amen Sba certifica una partita emozionante e vibrante, colpo su colpo, fino al successo finale della scuola basketarezzo. In classifica, proprio la formazione di Delia si trova in testa a 12 punti insieme al centro minibasket Carrara, due punti di vantaggio sul San Vincenzo che insegue a quota 10.